Settimana fluttuante con alti e bassi anche in borsa per il Monte dei Paschi di Siena con nuovi guai all'orizzonte. La semestrale 2022, presentata nelle scorse ore a Rocca Salimbeni, si è chiusa con un utile solo di 27 milioni di euro. In netto calo rispetto al semestre 2021, dove gli utili erano di 200, 2 milioni. Ma soprattutto sono tornate a crescere le richieste di risarcimento nei confronti della banca per l'informazione finanziaria. Un incremento per circa un miliardo di euro di richieste stragiudiziali che la banca commenta come disomogene e di assoluta indeterminatezza, in ogni caso. Si è provveduto ad effettuare alcuni accantonamenti. E oltre ai numeri a tenere banco, è l'ennesimo via libera all'aumento di capitale di 2,5 miliardi? Sarà deliberato. Nell'assemblea straordinaria del 15 settembre, la copertura arriverà da parte dello Stato con il Ministero del Tesoro, lo ricordiamo, che per adesso rimane maggioranza, rinviando al momento ogni possibile vendita. Ma in ogni caso, c'è una platea di privati che si sta ingrandendo all'interno del CDA e che avrà sempre più potere? Intanto MPS ha chiuso a piazza affari, perdendo quasi il 7% in virtù delle fluttuazioni e delle notizie che questa settimana hanno visto la banca protagonista delle cronache finanziarie, con la questione anche dei 3.500 esuberi come prepensionamenti per i dirigenti. Quindi la ristrutturazione si concluderà nel 2023 a quel punto. I conti dovranno iniziare a tornare davvero con le oscillazioni bancarie, che avranno un peso più reale.